Ciao a tutti, sono Cristina, una delle guide di Musea Colazione e sono qui per intrattenervi un po' in questa pausa forzata che ci coinvolge tutti e per darvi qualche spunto, qualche idea su quelle che sono le attività che potete fare con i vostri bimbi. Sono qui in compagnia della dea Bastet e per chi non lo conoscesse, Bastet era una delle divinità egizie, una gatta nera o una donna con la testa di gatto nero perché noi proprio vi vogliamo parlare degli antichi egizi o meglio di quello che facevano per intrattenersi nei momenti di gioco vi vogliamo parlare di quello che era il gioco della Senet Allora intanto cosa significa Senet? Senet significa passaggio, passaggio all'aldilà questa era una delle prove per il defunto per poter accedere al mondo degli occidentali dove Osiride era la divinità principale occidentali sono i morti quindi forse molti di voi hanno sentito parlare della pesa del cuore che era quella prova la più importante per accedere alla vita eterna che ogni defunto doveva superare dove il suo cuore pesato doveva essere leggero quanto la piuma della dea Mat la dea della verità, quindi un'altra parola in questa antica lingua è Mat che significa proprio verità anche questa era una delle prove quindi abbiamo un avversario che giocherà contro di noi con altre 5 pedine il suo scopo sarà esattamente lo stesso nostro ci vuole un po' di fortuna ma anche strategia e noi abbiamo un tabellone che ho comprato l'anno scorso da History Lab all'occasione di turismo dal nostro amico egittologo Pasquale Barile ma vi consiglio di realizzarlo insieme ai vostri bambini su un foglio di carta molto semplicemente sono 30 caselle 10 per ogni fila con la numerazione egizia di cui ora scopriremo qualcosa dunque i numeri per gli antichi egizi sono molto semplici ancora più semplici di quelli romani alcuni ci assomigliano pure come potete vedere dall'1 al 9 sono delle semplici stanghette quindi semplicemente si fa la somma quindi 1, 2, 3, 4, fino al 9 il 10 è rappresentato da una U rovesciata e poi si va sommando procediamo a S quindi la casella 11 sarà questa quindi sommiamo il 10 con l'1 e abbiamo l'11 via dicendo fino al 20 dove abbiamo 2 volte il 10 e fino alla fine alcune caselle di questo tabellone ovviamente sono particolari abbiamo la Hank che significa vita in cui noi saremo protetti quindi il nostro avversario non ci potrà fare nulla finché non decidiamo noi di muoverci abbiamo la casella Neferu che è questa che corrisponde alla casella 26 che è un'altra casella di protezione in cui noi potremmo decidere di sostare che è con una delle nostre pedine la casella della pesa del cuore dove vedete le piume della dea Mat che è quella famosa dea della verità di cui abbiamo parlato prima e il giudizio di Horus e la casella di Ra la divinità del sole quindi questo bellissimo disco solare queste sono tutte caselle di protezione all'interno del quale il nostro avversario non ci potrà fare nulla ne abbiamo però anche una che è la casella di Mu che è questa con l'acqua si vede le udine che ci farà scivolare quindi è facile da ricordare perché rappresenta l'acqua alla casella Hank ok quindi se io sono qui per esempio faccio due arrivo sulla casella Mu e devo retrocedere alla casella Hank in cui sarò protetta però mi fa tornare indietro se per caso questa casella fosse occupata da un'altra pedina può essere mia o di un avversario e io arrivo sulla casella Mu dovrò retrocedere alla prima fila ok quindi la prima casella è disponibile in questo caso non ho pedine quindi la metto sulla 1 però se la 1 fosse occupata andrei alla 2 e che queste 3 caselle dove siete comunque protetti prevedono che voi facciate il numero esatto con il vostro dado o con gli astragali per poter uscire dal tabellone quindi se sono qui dovrò fare 3 perché devo fare 1, 2 e 3 quindi uscendo proprio ok se sono su Horus l'occhio di Horus devo fare 2 se sono su Ra devo fare 3 tanto come si gioca io ho gli astragali che sono in realtà in questo caso semplici bastoncini vedete colorati una doppia faccia una chiara una scura come le mie pedine ok ma voi potete utilizzare tranquillamente un dado ricordandovi però che con gli astragali le combinazioni possibili sono solo 5 ok quindi io avrò il numero 1, 2, 3, 4 e 6 e se usate il dado e fate 5 semplicemente ritirate senza considerarlo nemmeno quali sono le combinazioni? bene noi considereremo quelle che sono le facce chiare ok quindi vi faccio un esempio in questo caso tirandoli sul tavolo abbiamo una sola faccia chiara che corrisponde al numero 1 in questo modo corrisponde al 2 il 3 sarà con 3 facce chiare il 4 con 4 facce chiare molto semplicemente il 6 sarà questo con 4 facce scure ok il 5 come vi ho già detto non c'è nel caso in cui io faccia 1 o faccia 6 ritiro quindi ho la possibilità di un nuovo turno per decidere chi comincia come in qualsiasi gioco con un percorso si tirano i dadi o gli astragali e chi fa il punteggio più alto deciderà che colore di pedina utilizzare e potrà iniziare il turno quindi io per esempio faccio un numero più alto del mio avversario e scelgo le pedine chiare chi inizia deve sempre disporsi sulle caselle pari quindi il 2, il 4, il 6, l'8 e il 10 mentre il mio avversario utilizzerà le altre pedine in maniera alternata posizionate sulla prima fila ci sono poche regole che voi dovete sapere ma vi farò un riepilogo poi al di fuori del video su un'immagine allegata in modo da poter rivedere le regole insieme come funziona questo gioco? io per esempio inizio faccio il primo tiro faccio 1 e vado avanti di una casella con la mia pedina il mio avversario la Dea Bastet qua la mia avversaria fa 2 ok? quindi con la sua pedina può decidere di muoversi avanti che cosa succede? non è che possiamo stare tutte e due sulla stessa casella quindi non stiamo così ma ci invertiamo proprio di posto ok? quindi lei va al mio posto proprio perché facendo 2 arriva sulla mia casella quindi mi rimanda indietro questo può succedere in varie posizioni della tabella tranne che sulle caselle di protezione come vi ho già spiegato prima dove io sono intoccabile succede però che si creino delle situazioni come questa quando io ho 2 pedine dello stesso colore in fila il mio avversario non si può invertire a me non può fare questo assolutamente ok? però può scavalcarmi quindi se in questo caso facesse 3 potrebbe fare 1, 2, 3 e quindi andare avanti a me può succedere anche che ci siano 3 pedine dello stesso colore in fila in questo caso il mio avversario non può né sostituirmi a me quindi questo è vietato ok? quindi anche questo è vietato ok? ma non può nemmeno scavalcarmi se facesse 4 oppure 6 ok? quindi lo blocco dietro di me fino a che io non mi sposo con questi tutte le pedine che stanno dietro saranno ferme ok? quindi questo è molto molto complicato da da spiegare in realtà è più semplice di quello che sembra ok? a me questo gioco ricorda molto il non ti arrabbiare proprio per questo motivo questo motivo no? invece di mangiare gli avversari in realtà li mandi indietro però alla fine un po' ti fa arrabbiare perché se non fai il numero preciso non riesci a uscire eccetera eccetera ovviamente chi riesce a far uscire le proprie pedine prima dell'avversario vince il gioco può essere un gioco molto lungo ricordatevelo quindi vi consiglio di decidere di giocare in un momento in cui avete abbastanza tempo è un po' come gli scacchi ok? può essere una partita anche di un'oretta oppure decidere di semplificare un po' il gioco magari dicendo il vincitore è quello che riesce a far uscire la prima pedina ok? dal tabellone perché già per farne uscire una volta può essere difficile questo gioco da chi era giocato? era giocato da tutti in Egitto inizialmente dai nobili ma poi anche da bambini in varie fasce della piramide sociale egizia e noi ne abbiamo testimonianza perché molte tombe e molti corredi funerari è stato ritrovato la scatola del Senet una famosissima è quella di Tutankhamon il faraone bambino che tutti conoscono per la sua maschera d'oro anzi quando la situazione sarà stabilizzata vi consiglio di andare a vedere questa bellissima mostra che si trova a Palazzo Medici nella Galleria delle Carrozze quindi via Martelli numero 5 dove c'è una bellissima riproduzione di tutto il suo corredo di tutto quello che Howard Carter ritrovò nel 1922 e all'interno del suo corredo abbiamo proprio la scatola della Senet che è questa come vedete c'è il tabellone col percorso le pedine sopra ma c'era anche una cassettino in cui potevano essere riposte le pedine e gli astragoli ci sono anche delle iscrizioni in geroglifico questo gioco a me piace molto sinceramente si trova anche in vendita su internet ma secondo me è anche molto bello poterlo realizzare insieme ai vostri bambini quindi provateci e fateci sapere come come vi sembra questo gioco e speriamo di vederci presto a una delle nostre visite che attualmente sono sospese per causa di forza maggiore e godiamoci questi momenti con le nostre famiglie io e la Dea Bastet vi salutiamo